This video gameIchitute This video game Unite Ciao a tutti Qua siamo sempre su Soup Park, questa è la terza parte Allora, ti piacerà qui? C'è aria pure e sempre qualcosa da fare Per non pensare alle cose che vorresti Non fossero mai successe Vabbè, vediamo cosa si può fare qua Spacco tutto Tampadina rotta la pupù che fece la pipì la pupù che fece la pipì la chiavetta usb vabbè prendi tutto no richiesta di amicizia cucchiaia e forchetta peli pubici ma dai come prendiamo tutto allora andiamo in cucina le cucine qua si assomigliano un po' tutte vediamo se c'è qualcosa qua da prendere clamato è andato male con tante pozioni di salute prendi tutto vabbè usciamo dai batterci quel mio amico lì no aspetta c'era qualcosa? no c'è niente allora saliamo andiamo a vedere qua sopra cosa c'è? benvenuto nella mia stanza wow curioso cosa c'è qua? dios de mantequilla questa roba qua che è? si può prendere niente casa bonita questo cos'è? di jason? ah beh no è la maschera da occhi face painting face painting stella prendi contanti carta di identità hawaiiana fatti una ragazza prendiamo tutto niente ho scoppiato il pallone sono degli scagnozzi e mi aiutano a punire la società dai criceti fantastico chiave dell'antro del caos contanti pozioni di salute questo è palledamento prendi tu e come saranno ste palledamento palledamento no dai ma dai ma che schifo terribile no no aspetta cambiamo cambiamo facciamo pizzetto dai allora qua c'è qualcosa qua qua niente eh un'altra cin po' c'mon cin po' c'mon guarda che puzza puzza lento vabbè allora andiamo avanti vediamo un po' cosa c'è qua carta premi malo informazioni della motorizzazione prendiamo tutto una camera speriamo che non sia allora chiave del garage dei cacciavite con tanti prendiamo tutto vabbè questa stanza è più sobria della camera la della mamma di carman la oh cam against fear con tanti prendiamo tutto io spacco tutto sono un criminale andiamo a vedere qua cosa c'è invece il solito bagno water vabbè tintura rosa tubo originito ok saponetta con corda ripieno cremoso di butter si esce di qua corri 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 te c'è qualcosa da dire butter spero che tu stai insegnando a questo novellino come diventare ah popolare ok si si sono molto popolare dunque te il re mago dice che sono troppo pelli di carota per far parte degli umani i paladini vogliono giustizia per tutte le rare non c'è abbastanza puntabilità cosa dice se vedi che è un oggetto che luccica puoi sparargli con la tua arma a distanza come faccio a mettere l'arma a distanza? puoi usare qualsiasi arma a distanza che stai utilizzando per sparare le cose nell'ambientazione di gioco una volta selezionato lo strumento sparo prepara il tiro con F e prendi la mira con il mouse ah eh bastava dirlo eh F hola eh si non ho mica capito perché perché non l'ha detto subito allora F faccio allenamento dai che devo fare un centro a parte che non rimane scusa ma allora posso fare questa cosa anche con i topi? beh perché io mi sono posto questo problema che ci sono questi topastri qua allora F no topi niente forse non devo andare lì dai topi boh forse con la storia lì dei topi vuol fatta dopo per distruggere gli ostacoli rivolgiti verso l'ostacolo e fai click con il pulsante sinistro del mouse ah ok Timmy chi arriva? dai Timmy Timmy vabbè qua c'è la bandiera fantastico fermata dell'autobus vabbè questo qua è per farsi portare ok elfi no adesso li dovrò combattere ti sei trasferito a un regno sbagliato bei capelli coglionazzo allora aiuto no ah il destro si può imparare non mi ricordavo già più mano santa va bene allora così li facciamo martello di butters aia pozione a salute ah no esamine sanguinamento che è? sembra grave ecco tieni un po' di questa pozione di cura magica uso oggetto perfetto ricorda di portare sempre con te qualche pozione ma non finire in castigo per aver vabbè non faccio in tipo legge aiuto aiuto siamo con il martello aiuto è sanguinante facciamo un bacchetta magica aiuto buona risposta accidenti prendi prendi diamo sempre il martello e vado sempre con questo accidenti no no siamo sanguinanti pozione 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 uso oggetto non ne ho più no 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 aiuto aiuto Non è così semplice sto gioco Ah, tanto faccio pozioni Da rianimazione Che rianimiamo lui Ok Adesso facciamo abilità Martello della giustizia Facciamo Primi AD Quindi fai clic con il pulsante sinistro Per lanciare quando vedi lampeggiare Ok No, sono sbagliato Mamma mia Faccio schifo Sono un nabbo anche in questo gioco Tu amico capo Usa un riusciutico Per risvegliarlo Eh sì, vabbè Chiudi E c'è solo pozioni della salute Morto Eh, ho visto che è morto Facciamo polvere dei sogni Eh, è stordito Mamma mia Sempre sanguinante io Funzione Ma sono troppo resistenti Aiuto Aiuto No Ma che tristezza No Ma vado in paradiso Continua dai Ma dai Chiudi Comunque sì Comunque sì Dobbiamo battagliare No Adesso adesso ce la cavo Dai Vediamo un po' Ce lo devo fare Oh, t'ho parato Ecco, t'ho parato Pierlone Tu sei morto Questo è come un gioco Per Paladin Butter Non è santo Abilità Martello della giustizia Proviamo adesso Con questo Troppo tardi No Cosa è che devo fare No Sanguinante Sì, ho visto che è sanguino Si, pozione Pozione Sono di cura No Curati Sì Sì Non mi vado Oh, là Questa volta ho fatto un bel attacco Ok Adesso proviamo Adesso io voglio provare il martello Di Butter Con questo qua che ha lo scudo Ah beh Sanguinante Accidenti No Pozione saluta piccola Allora Allora Questo qua Sai che cosa È meglio esaminarli No No Proviamo questo Acquone Perchè non Ecco Ok Perfetto Facciamo Sono in saluta piccola Spesso abbiamo cavato Stavolta Non ce la caviamo stavolta C'è veramente Voi che guardate direte Accidenti Accidenti Le paratute No Che non riesco a difendermi con quelle frecce lì Sai che cosa mi conviene prendere Con quel freccione lì Bene Sto usando tutte le Le pozioni di salute Guarda Chi è il turno? Martello di Butter Prendiamocela con lui Perfetto Se ti prendo Ok Uffa Pozione di animazione No aspetta Pozione di salute Non ce l'ho più Ho la pozione di potenza No Uso oggetto Tello di Butter No Proviamo il soffio del drago Dai Mi prendi fuoco No 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 Ah Non posso usarle Mano santa Facciamo il martello E ora Tac Finalmente Ce l'ho cavata Carmen ti ha inviato un nuovo messaggio Ma intanto prendiamo Cosa c'è da prendere qua Pupazzetto di Pumpadu E con tanti Prendi tutto Posso andare in mansione Macchinine Con tanti Pupazzetto di Trombino Con tanti Orecchio d'elfo Freccia distrutta Prendiamo tutto Tanto posso Sai che me la togo Questa parrucca Ma stufato Super Chi c'è qua Mi spiace ma non possiamo diventare amici Finché non avrai più amici Tipatica Tipatica Qua Carta è stropicciata Wow Questo è chiuso Chiave della casa di Jimmy Cosce di Pollo Plastica distrutta Chi c'è? Kelly Gardner Veramente sono più veloce A scrivere messaggi su Facebook Che a parlare Ecco faremo molto più in fretta Ti ha inviato un nuovo messaggio Allora Kelly Gardner Ecco Così è molto più facile che parlare Comunque mi sento proprio come te E ho una vera connessione No dai Attento qua cosa c'è di Niente Qua c'è niente Qua si può entrare Non ho parole Non me l'aspettavo In love in memory O Betsy Donovan Va bene Ok Ah c'è un coso che lampeggia Allora in teoria Ci posso Tirare le frecce Ma che era La F Perfetto Saliamo Che c'è qua? Peter Non ho richiesto di amicizia Non credere tutto Quello che leggere i giornali Scandalistici Ok Va bene Non credere tutto Che leggere tutto Ok Non credere tutto Che leggere tutto Che leggere tutto Ok Corona druidica Prendiamo tutti Non credere tutto Che leggere tutto Che leggere tutto Va bene Ma lì c'era Ah no 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 Lì c'era la tipa Ok Lasciamola in pace Ok Lasciamola in pace Qua Ma non si può entrare Qua chi c'è? Non parli te? No Lui non parla Io esploro Sapete che sono un esploratore Guardo dappertutto Spacco le palle Stai cercando Craig? Beh non puoi giocare In punizione Pare che abbia fatto il dito alla preside Meglio recuperare gli altri Allora Allora Vabbè Signor Stocci ti ha inviato un nuovo messaggio Ho rotto il cartone Allora vediamo Home Nuovo amico Peter Signor Stocci Voglio che si sappia Che mi dispiace molto Per battersi In generale Vabbè Vabbè Eh va Giocatevi Ah non mi fa prendere niente Qua cos'è? Mazinga Z? Vabbè Che è questa casa di? Di chi? Pupù che fece la pipì Ancora Con tanti Figurini di baseball Spegniamo la tv Con tanti Pozione della forza Forchetta Pozione di cura Prendiamo tutto Andiamo a vedere di sopra Questo vaso Spacchiamo il vaso Scheggia di ceramica Ma chi è? Spac? E' un trekky Mutante Con tanti Pozione di salita Ciao Cammy Salve umano Anche se preferirei Esplorare strani mondi Con te Sarebbe logico Abbandonare il ponte Prima del ritorno Del capitano Ah si si Fa proprio Spacch Capitano sarebbe mia mamma Non posso uscire Quando non è a casa Ma la federazione Ha una missione urgente Per te Un trecorder è stato abbandonato Su pianeta ghiacciato di 8 Solo che non è un trecorder E' l'iPad 2 Di mio padre Voglio che ti teletrasporti Sul settore Omicron E individui il dispositivo Prima che cada in mano E Klingon Credo che sia caduto Del mio zaino Nei pressi Vulcaneggiando No questa Bellissima La question Alla track Alla star track No E' una quest Allora nella J Vulcaneggiando Riporta l'iPad perduto Per lui stralare Attorno alla chiesa In cerca dell'iPad di Kevin Spettacolo Chiavette SB Chiavette SB Microchip Prendiamo tutto Che bel poster Contanti Videogioco Barbaclindo Prendiamo tutto Barbaclingo Ragazzi Devo mettere la Barbaclingo Questa La Barbaclingo Va bene Bene Troverò il Tricor Guardiamo cosa c'è Nel Ah Non si può guardare Niente Qua c'è un'altra bandiera Comunque è fortissimo Il fast travel Con quello lì Che arriva Cosa c'è qua Ah T'alto c'è un'altra scaletta Che si può Eppure ho visto là Ecco Gavettone Pozione di cura Allora F E' l'ora Ah Ho preso male Andiamo a vedere Di sopra Cosa c'è Cos'è? Non c'è niente Qua sopra No Non mi fa prendere niente Vabbè Pazienza Questa roba C'è un forziere No Lei scontacili Mi sto incastrando Che è? Brucia tutto? Mi mi Ma dai Ma dai Ah qua c'è la chiusa Se tenero in segreto Neanch'io Sono degli elfi qua Ecco Sapevo Ti farò il culo come la capanna No Ve lo farò io Aiuto Aiuto Mamma Sono robusti Ehi 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 Andiamo un po' Ehi Accidenti Non hai botta risposta Ehi 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 Devo rianimare Fighi Aia La vedo male La posizione a rimanizione Ah Motherfucker No No Ma che schifo No Vabbè dai Questa partita è tutto Poi ci vediamo in un altro video Prossimamente Ciao a tutti Comunque è troppo forte Sto gioco Ciao 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 Ciao